ciao a tutti buonasera a tutti ben ritrovati spero che stiate tutti bene voi le vostre famiglie ringrazio tantissimo marco pisani linea intima per avermi dato l'opportunità di di così partecipare a questa bellissima iniziativa perché innanzitutto ci fa tornare un po in contatto gli unicogliati di cui avevo un immenso bisogno non so voi ma io ne ho un immenso bisogno di rivedervi di ricondividere il nostro le nostre esperienze il nostro lavoro e mette a disposizione di tutti quanti le esperienze che in tanti di noi le esperienze nuove che in tanti di noi in questo brutto brutto periodo abbiamo abbiamo fatto no e quindi davvero utile e quindi grazie l'esperienza di cui vi volevo parlare io che so che appunto in tanti hanno avete fatto è quella del delle consegne a domicilio e del social selling io ho imparato questa questa bellissima espressione ultimamente e mi piace talmente tanto che la metto ovunque la uso come il prezzemolo perché rende molto l'idea secondo me noi persone come corsetteria bottino non abbiamo o non abbiamo ancora adesso vedremo è uno un e commerce vero e proprio quindi strutturato con tutto quello che comporta avere un e commerce strutturato e però appunto durante il lockdown dopo primo momento che sono certissima che abbiate vissuto tutte e tutti allo stesso modo cioè di disperazione totale dopo i primi 20 giorni no ci siamo mi sono data una svegliata una scrollata perché noi imprenditori non possiamo aspettare che l'aiuto arrivi dall'alto ci dobbiamo dare noi una una svegliata sì una scrollata ci dobbiamo rinvocare le maniche ma è il nostro è il nostro bello il nostro vero valore proprio sta proprio in quello e quindi senza troppe aspettative ho così annunciato segnalato su su fe comunicato su facebook e su instagram che avrei mi sarei organizzata per l'on delivery con mia grandissima sorpresa e questo questo post ha avuto subito tantissime reazioni e la il servizio è partito quasi immediatamente e ripeto con mio stupore perché io ho fatto in questo caso l'errore di ragionare no con mio metro che io sono una persona che non compra su su online quasi niente sicuramente non compro abbigliamento e sicuramente se ne avessi bisogno non comprerei né intimo né mare e invece è così pensavo che anche i miei clienti facessero pensavo ingenuamente che le mie clienti fossero fossero diverse da tutto il resto del mondo e chiaramente mi sono totalmente sbagliata e ho scoperto che è un servizio che fa molto molto piacere che è molto apprezzato e che c'è tutta una serie di un sacco di persone ci sono un sacco di persone che hanno che hanno acquisito l'abitudine in questo periodo magari prima non avevano la dimestichezza con la tecnologia con questi strumenti digitali invece l'hanno acquisita o torto collo durante questo periodo e adesso hanno scoperto che è molto piacevole comprare attraverso videochiamate, attraverso videoconsulenze, attraverso foto inviate personalmente e quindi poi riceverle a casa anche strattandosi di intimo calibrato dove la prova in camerino non è un piccolo particolare molto importante sia per il registrino che per l'intimo invece che per il consume da bagno invece si può, ve lo posso assicurare e può essere un servizio con cui integrare il servizio che diamo nel negozio fisico e che può arricchire moltissimo il nostro lavoro quindi è stato, ci è capitata una cosa terribile a tutti noi, una tragedia vera e propria però anche in una situazione così brutta si può trovare qualcosa, un aspetto che possiamo trasformare in opportunità questo penso che sia sempre molto molto importante da non dimenticare mai e quindi questa è l'esperienza che io posso trasferirvi nel mio piccolissimo è proprio questa della consegna a domicilio e del social selling appunto che per chi non ha ancora un e-commerce vero e proprio può essere assolutamente un grande strumento di aiuto ciao ciao